Siamo tra compagni, non siamo una conferenza accademica o scientifica e parliamo tra compagni, quindi parliamoci pure chiaramente in una maniera molto chiara e due cose, vorrei sottolineare due punti veramente molto chiari. La prima è che il Sud degli inizi del nuovo millennio sicuramente non è lo stesso Sud dei primi anni della fine del Novecento, su questo non ci sono dubbi. Poi possiamo ritornare su alcuni aspetti, però è un dato, direi una tendenza che si sta consolidando, anzi si può dire anche che è una tendenza che già si può dare per consolidata. Primo punto. Secondo punto è che la globalizzazione ha sicuramente fallito una parte enorme nei suoi propositi, ma di sicuro non ha fallito quella di creare un Sud globale. Quindi penso che questi sono due punti che mi sembrano preliminari per qualsiasi discussione, e cioè un Sud diverso è una globalizzazione che ha creato un Sud globale. Ora sempre per cendi rapidissimi, in che cosa è diverso questo Sud? Beh intanto c'è una questione ecologica che ha assunto contorni molto diversi e potremmo dire non è anche più una questione ecologica, ma la vera e propria minaccia ecologica. Solo che proprio perché è stata affrontata male tardi, oggi diventa purtroppo una parodia di se stessa, per cui spesso vediamo ad esempio che la soluzione dei problemi ecologici passa solo per la riconversione energetica, quindi come se la soluzione fosse il passaggio dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. E quindi è chiaro che siamo alle prese con una vera e propria parodia della questione ecologica vera e propria. La stessa cosa potremmo dire per esempio del post-fordismo, una parodia del post-fordismo oggi che invece si era caratterizzato nei primissimi anni 90 e alla fine degli anni 80, proprio con questo protagonismo femminile che aveva creato poi nel tempo un empowerment del femminismo, che quindi da ideologico diventava proprio politico, attivo e quindi non solo militante, ma che aveva ottenuto proprio dei riconoscimenti. E adesso invece è chiaro che anche qui assistiamo a una parodia di questo tipo di femminismo, quindi parodia della questione ecologica, parodia dei, nonostante i grandi sforzi ovviamente, parodia della questione femminista, tanto è che vorrei fare una sintesi proprio breve, visto che appunto vivo e lavoro a Parigi da anni ormai, noi abbiamo una sintesi che è una donna appunto sindaco, che appunto ha fatto di Parigi la città più importante della Francia, una città ecologica e cosa ha fatto? Ha fatto piste ciclabili, ha ampliato i marci a piedi e dunque ha creato solo e unicamente praticamente crisi economiche, tutto quanto il settore commerciale, delle piccole botteghe artigiane e tutto quanto il commercio tradizionale della città. È un semplice esempio. E questo lo dico spesso perché da anni appunto in Francia collaboro con ATAC, con altri gruppi in cui abbiamo pensato e studiato formule alternative anche istituzionali, per esempio per l'ONU, parlando di un'ONU dell'ambiente, un'ONU ecologica, fino ad animare, insieme per esempio a Francesco Rubino ed altri colleghi, dei seminari permanenti dal 2014 sulle catastrofi ecologiche, economiche e umanitarie, perché vanno sempre assieme. E quindi abbiamo un'emergenza di diritti umani, così come c'è un'emergenza ecologica, ma è vero il problema, come sottolinea appunto James Cavallaro di Yale, con cui lavoriamo spesso, è che noi siamo stati timidi a porre gli obiettivi, non siamo stati ambiziosi. La nostra ecologia politica è stata molto timida, non è stata certo ambiziosa, la stessa cosa potremmo dire appunto della lotta per i diritti umani, soprattutto una lotta per i diritti umani. Quindi timidi e non abbastanza ambiziose a porre gli obiettivi. Il secondo elemento è leggermente più problematico, nel senso che sicuramente la globalizzazione ha stravolto gli equilibri, però molto probabilmente non ne ha creati di nuovi. Ma questo è il punto problematico, perché se è vero che si è arrivata una sistematizzazione, diciamo, la fine della guerra dell'ordine bipolare planetario, per cui molti analisti, esperti di questioni strategiche, anche molto bravi in Italia e in altri paesi, anche se uno dei primi è stato Kissinger, parlano di una riconfigurazione, diciamo, multipolare. Ora, una riconfigurazione multipolare non implica di per sé assolutamente che i vari poli siano perfettamente equivalenti. Quindi, anzi, abbiano la stessa forza, la stessa capacità competitiva o concorrenziale. E quindi, al contrario, non solo per niente equivalenti, io direi che ci troviamo sostanzialmente nella vecchia condizione descritta da Marx, proprio quando si stava accingendo a scrivere il libro quarto famoso del Capitale, cioè quello sulle tendenze, che c'è una concorrenza di oligopoli. Questo è tutto quanto. Quindi una situazione ottocentesca quasi di concorrenza di oligopoli, solo che le nuove catene industriali sono quelle, appunto, informatiche del mercato digitale, sono quelle del metaverso e non sono più quelle delle manifatture di tipo B, quali, per esempio, le catene di montaggio di automobili o di elettrodomestici, ma sostanzialmente la situazione è la stessa. Quindi, detto questo, avendo due minuti, quello che vorrei sottolineare, quindi da queste due tendenze, è chiaro che ricaviamo un'immagine del pianeta a sud, che è molto diversa da quella precedente, e due, si delinea e dovrebbe delinearsi un'ecologia politica molto, molto diversa. Per esempio, io ritengo che sia importante proprio sottolineare una concorrenza quasi selvaggia tra sfere di complessità, quali diverse, che sono l'ecosfera, la biosfera e l'infosfera, ma da assumere in maniera assolutamente non ingenua. Quando parliamo di infosfera non parliamo assolutamente di qualcosa, di un concetto sociologico o economico, semplicemente, ma qualcosa che è sostanzialmente scientifico. C'è un concetto che deriva proprio dal rapporto che esiste tra la dispersione di informazione e il controllo dell'informazione, e quindi riguarda proprio l'informazione come dato, come elemento, potremmo dire, particella fondamentale della società, quindi come qualcosa di realmente esistente, e non semplicemente una tendenza o un processo virtuale su cui si costruisce un'infosfera. È chiaro che una roccia può avere meno dati di un grattacero, così come il corpo umano può avere molti più dati di un robot, ma questo per dire che sono questioni complesse e che sono convinta che esiste una competizione selvaggia tra queste sfere, ecosfera, biosfera e infosfera, e alcune volte è molto più intuitivo, evidente, per esempio una competizione tra ecosfera urbana e la copertura verde, ma pensiamo, si è parlato molto di agricoltura, però vivendo anche e lavorando in Brasile, in realtà per quanto riguarda la competizione tra sfere diverse, la questione la vediamo con l'Amazonia. Da un lato del mondo, in tutto il mondo, c'è un rilancio della piccola agricoltura fino agli orti urbani, dall'altro lato è proprio la piccola agricoltura invece che determina realmente la distruzione ettaro per ettaro dell'Amazonia, rodendo centinaia di migliaia di ettori della foresta. E quindi, solo per concludere, si tratta di rifinire certi paradigmi, tra cui quello di catastrofe, e di verificare, secondo me, le risposte adeguate a un paradigma pianeta che si rivela insufficiente, e di verificare un livello, e veramente chiudo, non solo di umanità come soggetto, ma proprio di avanguardia. Se l'umanità come soggetto, un unico soggetto, era un grandissimo traguardo politico, proprio culturale, negli anni cinquanta, oggi secondo me dovremmo recuperare il concetto di resistenza come avanguardia. C'è un concetto di resistenza praticata come avanguardia, su cui poter costruire un internazionalismo di punti caldi, e appocciare quindi una nuova identità politica che sia realmente planetaria. Così come forse era, fino a trent'anni fa, la questione palestinese, oggi dimenticata, oggi considerata solo come questione di politica costituzionale, di politica nazionale, mentre una vera e propria questione di avanguardia e di resistenza, perché la via lettica, vera, di resistenza, aveva portato unico popolo al mondo, a non avere uno Stato, ma avere, parlo prima degli accordi di Oslo, ovviamente, un'organizzazione politica internazionalista, dove il vero soggetto, soggetto resistente, era il popolo e non lo Stato. E quindi io mi auguro un Sud che sappia esprimere questa perfetta corrispondenza tra capacità democratica, capacità ecologica e quello che noi possiamo chiamare sempre con un unico nome che è il comunismo, cioè quest'idea di socialismo libertario. Ringrazio per lo spazio. Grazie a te Alessia. Ringrazio. Grazie a te Alessia. Grazie.